La Repubblica sarà riorganizzata into the first Galactic Empire! E stiamo vedendo tutto ciò che è rimasto, tutto ciò che ancora non si è racchiuso delle guerre dei Cloni. Siamo su pianeta quindi Serino, pianeta del Conte Duco e stiamo vedendo che cosa è accaduto dopo la morte del Conte, dopo la fine della guerra. C'è stato, come su Camino, un bombardamento orbitale. Ma il cliffhanger della scorsa puntata vedeva per l'appunto Echo, Tech e Omega su un container che stava cadendo dal cielo. I propulsori dovrebbero attivarsi e ancora non l'hanno fatto, mentre Hunter e Wrecker hanno fatto una fuga d'azione molto ansiolitica arrivando nel Palazzo di Duco e scappando grazie a un ascensore segreto e stanno tornando alla Marauder per andare a prendere i compagni. Per fortuna, come previsto da Omega che giustamente aveva studiato gli armamenti e i veicoli imperiali, finalmente i propulsori del cargo si attivano. Tuttavia il container finisce proprio sul limite di un precipizio. Nonostante il luogo in cui si è schiantato il container sia molto pericoloso e instabile, Omega vuole recuperare assolutamente la cassa di tesori che ha trovato, perché ha sentito il discorso di Tech. Lei si sente un peso, quindi vuole rimediare al fatto che loro l'abbiano salvata, l'abbiano portata via da Camino, ma ha interpretato male le parole dell'uomo. Infatti il clone non intende che dè un peso, intende che devono adattarsi, che devono trovare un modo. E la ragazzina a tutti i costi ricorda un po' il Pineta del Tesoro con la scena, il finale bellissimo, in cui lei cerca di prendere questa cassa, ma è troppo pericoloso. E dico, cerca di farlo capire alla ragazza velocemente, andiamo via. Non vale la pena, rischiamo la morte. Tuttavia, mentre stanno cercando di evadere, di lasciare questo container molto pericoloso, cade una pesantissima cassa contro Tech e gli frattura il bacino. Quindi il clone è impossibilitato a muoversi agilmente. Fortunatamente Omega e Deco riescono ad estrarlo e a nascondersi nella foresta. Ma qui si accorgono di essere seguiti da qualcuno. C'è un uomo che li sta osservando, c'è un uomo che li segue. Chi è? Provano a puntargli le armi addosso. E questo si rivela essere un civile, un uomo del posto. Il suo nome è Roma Radell e non lavora per l'impero. Anzi, resta sorpreso che gli altri, essendo cloni, non lavorino per il regime. Però non vuole aiutarli, non si fida. Dice che non c'è alcun rifugio, che non può aiutarli. Ma Tech giustamente fa notare che c'è una fonte di calore poco distante, la casa dell'uomo. Quindi il suo malgrado è costretto ad accettare i due cloni e la bambina. Dall'altra parte, l'impero con il capitano Wilco non è stupido. Ha visto i container nell'atmosfera cadere. E sa benissimo che a bordo di uno di quelli c'erano i cloni. Quindi che gli altri due, Hunter e Wrecker, che sono scappati, andranno a cercarli. Che cosa fa? Schiera i suoi uomini per trovare i membri della Bad Batch, che lui ha visto, che lui ha identificato. Quindi da questo momento non sono più creduti morti dall'impero. Ma inizia a spargerci la voce. Una voce che rimane ancora soltanto tra le truppe. Perché nessuno ha ancora scritto a Tarkin oppure all'ammiraglio Rampart, che vedremo sul finale, quando scoprirà questa bieca e per lui funesta notizia. La Bad Batch deve quindi attuare il piano doppio zero, silenzio radio. Perché capiscono che l'impero sta ascoltando. Sta cercando di pedinarli. Ha capito il loro piano. E vuole raggiungere al container. Ma con il silenzio radio possono guadagnare tempo, riunirsi e quindi fuggire dal pianeta. Omega tuttavia è contraria a lasciarla al container. Sì, era pericoloso. Però con una fune, se tornano lì, possono prendere la cassa piena di crediti, portarla via e almeno non se ne vanno mani vuote. Hanno bisogno di soldi. Hanno bisogno per sopravvivere, per farsi una nuova vita, per iniziarla altrove, lontani dall'impero. E quindi la ragazzina rimane fissata con quel container. E te che invece è ferito, quindi parla un po' con Romar. Chiede perché sia lì. E lui gli spiega che come altri sopravvissuti, dopo il bombardamento non c'è stato altro luogo in cui nascondersi. Ma lui non vuole avere niente a che fare con il tesoro di Dugu. Perché quel tesoro è macchiato di sangue. Macchiato dei sangue dei vinti durante le guerre dei cloni, quel pianeti conquistati. Macchiato degli ideali distorti di cui ha voluto partecipare e alimentare una guerra che ha portato morti. Quindi per lui quel tesoro è maledetto. Vuole starne lontano. Poi regala un kaleidoscopio, un gioco, a Omega. Che lei crede che siano diamanti. E lui gli risponde che è solo un gioco di effetti. Che deve trovare la sua naturalezza, la sua fanciullezza. Che purtroppo Omega ha perso, data la sua vita su Camino. E poi le avventure che l'hanno attesa con la Bad Batch. Dall'altra parte, Hunter e Vrecker sono ancora circondati. Ma abbiamo una scena bellissima in cui trovano un carroarmato separatista. Vrecker prende il cannone con tutta la sua possenza. Inizia a colpire tutti i clon troopers dell'impero. E dice, sono un carroarmato, sono un tank. Io mi sono esaltato. Poi lo ripeto perché il doppiaggio è eccezionale anche in italiano. Abbiamo un doppiatore che doppia tutti i cloni. E riusciamo a distinguerne la personalità. La stazza. Quindi tanto di cappello al doppiatore anche italiano. Perché per me ha fatto un lavoro eccezionale. Nel frattempo Romar, il nativo di Sereno, comincia ad apprezzare i cloni. E porta a Tech on Data Core. In cui sono contenute tutta la storia. Tutte le informazioni su pianeta Sereno. E qui è molto importante il discorso che fa. Perché loro, il pianeta, è sempre esistito prima di Dooku, prima della guerra. Solo che anche noi del pubblico identifichiamo questi pianeti separatisti come nemici, come ostili. Ma prima c'era una storia ben più profonda. E lui all'interno di questo Data Core l'ha archiviata completamente. Solo che deve essere riparato. Lavoro perfetto per Tech. Che comincia a lavorarci. E alla fine ce la fa. Tuttavia, mentre Echo è all'esterno. E Tech è distratto in questo lavoro che fa con piacere. Omega, guardando il caledoscopio e non concependo cosa voglia dire gioco. Perché per lei quelli erano diamanti. Effetto ottico è un gioco per renderti felice. Lei comprende soltanto una cosa. Io per rendere felice i miei compagni. Devo recuperare quel tesoro. Devo recuperare quei soldi. Perché è quello che ha detto Echo. È quello che era il nostro obiettivo iniziale. Quindi prende la corda di arrampicata e parte da sola. Quando si accorgono è troppo tardi. È notte. Devono andare a recuperare. Ma sanno dov'è il luogo del container. Purtroppo lo sa anche l'impero. Che è andato a cercare tutti i 50 i container. Tra cui quello. Torniamo quindi ad un classico della The Bad Batch. Della prima stagione. Ma anche qui nella seconda. Sembra che diventerà un po' meno. Ma comunque abbastanza comune. Il salvataggio di Omega. Che essendo una ragazzina si mette nei guai. Deve non andare a salvarla. Solo che Tech dopo essere rimasto schiacciato. Da un enorme baule. Da un enorme scatola pesante. Si è fratturato la gamba. Quindi zoppica. Echo è quello che va per primo. Verso il container. In cui sa. Che Omega è scesa. E ha trovato questa cassa. Che vuole prendere a tutti i costi. E lo dice Echo. Guarda cosa ho trovato. Ma Echo le dice. Moviamoci. Lascia. Lascia stare. Sono arrivate le truppe dell'Impero. Stiamo combattendo. Infatti arrivano con i Land Speeder. Iniziano a circondarli. La situazione è molto concitata. Molto frenetica. Molto pericolosa. Con Tech. Che essendo ferito. Da tutto se stesso. Ma ha un limite. E infatti nel corpo a corpo. Con un altro clone. Sembra quasi avere la peggio. Ma per fortuna. Lui è della Bad Batch. E quindi. Eccolo. Di nuovo. In piedi. Pronto a distruggere. Sia le navette. Che gli oppositori nemici. In arrivo. Finalmente. Anche Hunter e Wrecker. Le aggiungono la Marauder. E riescono ad arrivare. Al punto di ritrovo. Dove Omega. Tech. Ed Echo. Sono per l'appunto bloccati. C'è ancora un combattimento. Molte esplosioni. Perfetta. Di nuovo. L'azione. Come nella prima puntata. Ed ecco. Che la squadra riesce a scappare. Ma prima che se ne vadano. Romar guarda Omega. E li regala. Il caleidoscopio. O un po' per farle ritrovare. La fanciullezza. Il gioco. Per farle dimenticare. Gli orrori di guerra. Che hanno contraddistinto. Il periodo precedente. Con le guerre dei cloni. E che in qualche modo. Segneranno. Anche il proseguire della vita. Di questa giovane clona. Di questa giovane. Ragazza. Sul finale. Omega chiede scusa. Ad Echo. Per quello che ha fatto. E all'intera squadra. Perché gli ha messi in pericolo. Ma si giustifica. Dicendo che ha sentito. Echo e Hunter parlare. E voleva in qualche modo. Ripagarli per averle salvato la vita. Perché si sente un peso. Ma Echo le fa capire. Che lei ha mai interpretato le sue parole. Che è stata la scelta giusta salvarla. Perché altrimenti. Starebbero ancora lavorando per l'impero. E invece. Hanno preso la palla al balzo. Hanno salvato. Una persona che aveva bisogno. Omega. L'hanno accolta. Nella loro famiglia. L'hanno protetta. E hanno lasciato l'impero. Quindi sono finalmente liberi. Sì. Non hanno un soldo. Sì. Sono sempre braccati. Sì. Ora hanno scoperto che sono ancora vivi. Però è la scelta giusta. E anche il tesoro più grande del mondo. Non vale la perdita della ragazzina. O di un membro della Bad Batch. Questo è molto importante. Fa molto famiglia. Fa molto emozione. E a me personalmente è piaciuto molto. Più tardi. Su Serrino. Al cantiere navale imperiale. Vediamo finalmente arrivare l'ammiraglio Rampart. Che nella prima stagione. Il clone cominciava a fare la sua scesa verso Tarkin. A delinearsi come antagonista della Bad Batch. Infatti fu lui ad ordinare il bombardamento orbitale su Camino. E qui arriva. Parla con Wilco. Il capitano dell'impero. Dei cloni imperiali. E questo gli dice. Abbiamo recuperato l'85% delle casse. Dei trofei di guerra di duco. Mancano ancora qualcuna. Qualcuna in cui come vi dicevo nello scorso episodio. Conterrà Kix. Il clone congelato. E che non ritroveranno fino al 34 ABY. Molti anni dopo la caduta dell'impero. Ma qui Rampart. Guarda il clone e chiede. Come mai hai parlato della Bad Batch? Sei sicuro che fossero loro? E il capitano Wilco gli risponde. Sono certo fossero loro. Per questo l'ho scritto. Non sono morti su Camino come pensavamo. Anzi sono vivi. Sì erano davanti a me. Sono certo di loro. E Rampart prova a convincerlo. E non è un bene che Tarkin venga a sapere che siano ancora vivi. Li credevamo morti. E meglio che pensi ancora sia così. Che ne dici di cambiare il rapporto? Di scrivere che erano dei semplici pirati? E non nominare la Bad Batch? Ma Wilco, e qui lo vediamo, nonostante sia un clone. I cloni hanno una certa libertà. L'hanno sempre avuta. Servono l'impero perché? Perché loro sono stati creati per servire la Repubblica. E la Repubblica è diventata un impero. Ma non tramite colpo di Stato. Si è riformata politicamente. Quindi è normale che loro servano un impero. Con il chip inibitore fanno cose che non vorrebbero. Ma quella è per uccidere i Jedi. Per il resto hanno una possibilità di scelta. E in questo caso Wilco dice No. Io ho visto la Bad Batch. Io scrivo questo. Non vado a cambiare. Non vado a nascondere. Non vado a insabbiare la cosa. E allora Rampart tira fuori il suo vero carattere. Tira fuori la sua vera faccia. E a me questo personaggio subdolo cattivo piace. Perché spara Wilco che precipita dalla scogliera. Ed io credo che questo clone in realtà sia vivo. Possa essere vivo. E magari possa poi schierarsi con la Bad Batch. Mi piacerebbe vedere questa prospettiva. Perché Rampart per mantenere il favore di Tarkin ha voluto nascondere il fatto che la Bad Batch sia ancora in attività. Sia ancora viva. Ma se Wilco è sopravvissuto alla caduta allo sparo potrebbe diventare un buon alleato. potrebbe smascherare Rampart e mettergli il bastone tra le ruote. Cosa che sapete io apprezzo molto. Per il prossimo video di analisi ragazzi ci vediamo venerdì in diretta su Twitch perché ne parliamo di nuovo in diretta. Finalmente un nuovo computer. Finalmente questi erano i test di prova. Speriamo di riuscire a tornare al meglio. Io come sempre sono Emilio Valotti. Lasciate un bel mi piace e che la forza sia con voi. e che la forza sia con voi.